Non chiudete gli occhi, questa è magia. Eccomi qui, non sono sparito anche se sono un mago, ma come avete potuto leggere dal titolo, papà 2021 caricamento in corso, il caricamento è finito e Ryan è nato, infatti Angelica non è qui con me, ma è in ospedale con il piccolo, quindi volevo dirvi che tutti stanno bene, sia Angelica che il piccolo Ryan e anch'io, stiamo bene, ma purtroppo questa settimana sarà l'unico video che uscirà qui sul mio canale, quindi penso che capiate, penso che capiate, non so quanto sia corretto, però sono stanco dai ragazzi, passatemela. E vi ringrazio, ma detto questo andiamo alla magia, perché oltre alla nascita che è una vera magia, oggi vi mostrerò per la prima volta due mazzi particolari, i Fast and Fake Genius della Bicycle, sono mazzi dedicati ai bambini per degli effetti veramente visuali che i bambini apprezzeranno e visto il poco tempo che ho, vi farò vedere solamente un effetto proprio dedicato al neonato, quindi andiamo subito a vederlo. Grazie a tutti. Ragazzi, grazie per il supporto, questo video è stato molto veloce, ma potete capire i mille impegni che ci possono essere, quindi spero che questo effetto vi sia piaciuto, veloce ma visuale, si possono fare tantissimi effetti con questi mazzi di carte e non sto scherzando potrei arrivare a due ore di video per farli tutti, sono due mazzi veramente belli e se ci tenete oggi li ho presentate e prossimamente vi farò un po' di effetti in ogni video, ovviamente non tutte le settimane saranno gli effetti con queste carte perché ci saranno tantissimi effetti magici in programma, ma io li trovo veramente bellissimi, è fast and fake genius. Detto questo non mi resta altro che dirvi che anche se la magia per oggi è finita, la vera magia siete voi e la nascita è una grande magia. Ciao ragazzi